Grazie a tutti 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 In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirinio Andavano tutti a farsi registrare ciascuno nella sua città Anche Giuseppe che era della città di Nazareth e dalla città di Nazareth e dalla Galilea salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme per farsi registrare insieme con Maria, sua sposa che era incinta Ora, mentre si compirono per lei i giorni del parto, diede alla luce al suo figlio primo genito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoria perché non c'era posto per loro nell'albergo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti